Alessandro, fa strano rivederti seduto lì dopo che ci siamo visti per due mesi davanti al cancello, è tornato tutta la normalità, non credo. No, piano piano, stiamo tornando alla normalità, sono stati fatti dei passi in avanti sotto diversi aspetti, tra l'altro tutti positivi, quindi andiamo avanti. Di questi passi in avanti positivi, cioè quello di ieri credo, immagino siete molto contenti perché hanno accettato su tutta la linea le proposte che gli avete messo sul tavolo della discussione. Sì, c'è grande soddisfazione da parte nostra e grande orgoglio anche di essere riusciti a conquistare queste norme che tuteleranno in futuro tutti i calciatori e di conseguenza anche i tifosi. Era una battaglia che avevamo aperto con le istituzioni sin dal primo momento, siamo riusciti a farci ascoltare e quindi c'è grande felicità, ripeto, perché siamo riusciti a migliorare il sistema che poi era quello che volevamo nell'interesse non solo del Parma perché purtroppo il Parma ha subito queste mancanze che c'erano nelle norme e siamo riusciti a conquistarle per tutto il sistema calcio in generale. A proposito di un discorso in generale, una delle norme più importanti è quella gradualmente anche perché dice Tavecchio se le proponessimo per domani probabilmente non riusciremmo a far rientrare quindi torneremmo di nuovo al sistema all'italiano delle deroghe, c'è quella del pareggio di bilancio nel 2018-2019. Ma viviamo in un mondo anormale? Cioè un imprenditore che entra, cosa fa? Entra in un qualsiasi azienda, non parlo di calcio, ma anche nella vita normale, in un'azienda normale per avere dei debiti? Mi sembra scontato che uno che fa impresa debba cercare almeno il pareggio di bilancio. Ma sì, infatti è quello che deve essere un po' nell'interesse dei presidenti che sono già in sella e di quelli che arriveranno avere a che fare con società sane, che è la cosa più importante, la cosa che in questo momento manca nel calcio italiano perché credo il 70-80% delle squadre sono indebitate. Quindi è stata tracciata una strada, un percorso che sicuramente, come ha detto il presidente Tavecchio va dato il tempo allo società per mettersi a posto. Con piccole introduzioni a partire dal prossimo campionato, ogni anno sempre più stringenti che faranno sì che poi nel 2018 ci deve essere il pareggio di bilancio. Quindi penso che sia... andiamo verso un cambiamento in positivo del sistema calcio e quindi credo che ci sia da essere contenti, non parlo di me, non parlo del Parma ma proprio di tutti... diciamo l'ambiente sportivo italiano in generale perché questa cosa farà... magari potrà essere nel breve problematica a cercare di mettersi a posto, però in futuro sicuramente non può che portare dei benefici. Ciao Alessandro, allora ti volevo chiedere se questo vuoto normativo, questa vaccazio legis sostanzialmente non è un po' clamorosa cioè ripercorriamo le tappe, una persona che non fornisce indicazioni sull'assettività gioca a fare il presidente ha indossato una felpa del Parma, si è presentato all'Olimpico, ha stretto la mano a tutti i presidenti non ha portato una garanzia nei tempi previsti, cioè comunque non arriva tardi, non è clamoroso che c'è stato il caso Parma per arrivare a dire c'era un vuoto normativo così importante perché altrimenti, come si diceva, per comprare una casa le banche chiedono mille mutui, cioè com'è possibile questa cosa? Ve lo siete chiesti? Ma è possibile come non solo purtroppo nell'ambiente sportivo, in Italia è possibile e siamo anche specialisti nell'arrivare sempre dopo, facciamo succedere una cosa e poi cerchiamo di sistemarla quindi è un problema che non riguarda solamente il calcio ma riguarda un po' la mentalità italiana e tornando a noi, sicuramente quello che abbiamo passato noi, siamo stati primi noi a non volere più che accadesse perché è impensabile, come hai detto te prima, che una persona si sveglia la mattina, compie una società di calcio ci si diverta un po', si faccia vedere in giro, si faccia pubblicitare e poi la lasci morire quindi questo era uno dei punti che assolutamente noi volevamo che venissero cambiati e la conferma è che questo punto parte da subito quindi ripeto, è stata la conferma che veramente era una mancanza burocratica che non ci potevamo permettere ecco il punto mi interessa quello dell'essere in possesso del certificato antimafia è stato chiesto da voi no, poi a tanto non ci eravamo spinti quindi è una cosa che è stata voluta dalla fede del calcio l'esperienza, l'esperienza che ti ha lasciato, io ti voglio chiedere dal punto di vista umano questa esperienza cosa ti ha lasciato, abbiamo precedente presidente comunque con indagato per bancarotta fra l'olenta abbiamo quello che è di fatto ancora il presidente del Parma in carcere a parte l'ammarezza, mi racconti qualche aneddoto tra te e Manento o se c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che a un certo punto era irreversibile la situazione ma no, credo che la situazione in generale sia come posso dire sia incredibile per quello che abbiamo ma non solo, io ho tutti vissuto in questi mesi da diverse persone, dalla vecchia società dalla società che è stata in sella un mese fino ad arrivare a Manenti cioè ne abbiamo viste veramente di tutti i colori e questo, come dicevete, c'è più che altro l'amarezza che prima ti sei fidato di persone che consideravi tra virgolette amici che mai ti avrebbero potuto far del male e invece te l'hanno fatto dopo hai sperato hai sperato prima in taci e poi diciamo presi dalla disperazione abbiamo sperato addirittura in Manenti quindi immaginate un po' in che come siamo arrivati noi ad oggi quindi è tutto è tutto da buttare via, è tutto da cancellare bisogna tracciare una linea quello ormai fa parte del passato e dal 19 di marzo dobbiamo pensare al futuro cancellare tutto quello che è stato prima perché ormai si è detto tutto e di più non serve più a niente capiremo chi sono stati i responsabili e in quale percentuale quindi conviene voltare pagine e pensare al futuro che è molto più importante per il Parma Sono da Manenti un faccendiere o un delinquente? Ma non lo so e non mi interessa dico la verità io dico solo che nel periodo che l'abbiamo potuto conoscere noi ci ha ci ha dato tante parole e zero fatti quindi io posso giudicare solo questo Ciao Ale, ti faccio una domanda tu circa un mese fa, un mese e mezzo fa avevi detto che Girardi ci ha abbandonato mentre almeno Leonardo è ancora qui a combattere con noi ti ha deluso anche lui nell'ultimo periodo vista anche la deriva un po' che ha per la situazione societaria Ma sicuramente la sua scelta di dare dimissioni ci ha spiazzato un po' perché quantomeno fino a quel momento un punto di riferimento lo avevamo è venuto a mancare anche lui e quindi siamo veramente ritrovati da soli poi può essere giustificabile dal suo stato di salute e non voglio giudicarlo ecco io l'unica cosa che posso dire è che sta di fatto che anche con l'uscita di Leonardo ci siamo sentiti ancora più soli abbiamo cercato di andare avanti ecco senza la sua figura che tutti conoscete in questi anni qual era la figura di Leonardo nel Parma Calcio e quindi sicuramente è stato un danno ulteriore Senti, nel frattempo tu hai preso tre giornate di squalifica per l'espulsione di domenica quanta rabbia c'è e se ci spieghi cosa è successo realmente tra te e l'arbitro? Ma lì è un discorso sicuramente c'è un aspetto emotivo di stress che mi porto dietro da un po' di tempo per questa situazione che mi sono sobbarcato a 360 gradi insieme a qualche mio compagno sulle spalle quindi sicuramente c'è quello che ha inciso ha inciso anche secondo me la superficialità con cui gli arbitri ci stanno arbitrando ultimamente e prendono decisioni contro il Parma ultimamente quindi io l'avevo detto anche prima di entrare in campo tra l'altro al quarto uomo vogliamo essere rispettati perché va bene siamo ultimi siamo falliti ma vogliamo giocarci le partite la pare con gli altri invece mi sembra che ci sia dal momento che il Parma mai non conta più niente la superficialità nel decidere gli episodi della partita e la superficialità anche tra virgolette nelle designazioni perché si vede che ogni domenica viene mandato l'ultimo arbitro a disposizione o quello che viene su dalla B o quello che deve fare esperienza viene puntualmente mandato ad arbitrare il Parma quindi è quello che mi ha fatto arrabbiare poi sicuramente la protesta è sbagliata e mi prendo di responsabilità per questo non sto giudicando l'espulsione perché ci stava ed era anche giusta veniva e c'era dietro un po' di scorie che purtroppo ho sfogato in quel momento L'ultimo da parte mia Donadoni ha detto domenica che anche magari sul lettino dei massaggi voi non parlate più di calcio ma parlate chiaramente di questione societale da adesso, diciamo da oggi si potrà tornare almeno tra di voi a parlare di calcio qualcosa che ha cambiato anche da questo punto di vista? Ma con l'avvento dei curatori sicuramente è cambiato c'è qualche certezza in più è normale che bisogna cercare di andare a fine campionato sperando che arrivi un compratore uno che si prenda al Parma e quindi il nostro obiettivo deve essere quello di giocare arrivare a fine campionato e rendere appetibile il Parma quantomeno con le nostre prestazioni però rendere appetibile il Parma devono rendere tutti ognuno deve fare la sua parte credo noi giocatori in campo e rinunciando agli stipendi che dovremmo prendere per poter invogliare qualcuno credo che i tifosi dovrebbero riempire lo stadio perché uno che vuole comprare il Parma se vede uno stadio vuoto magari qualche domanda un punto interrogativo se lo crea magari vedendo un attaccamento nonostante tutto quello che è successo nonostante la squadra purtroppo non è che offra queste grandi prestazioni e risultati però far vedere che la tifoseria è vicina alla squadra e quindi risponde presente chiedo anche agli imprenditori locali di darci una mano di far sentire la loro voce sempre per rendere appetibile il Parma perché uno che vuole arrivare anche da fuori magari sa di poter contare anche se in piccola parte però su degli imprenditori locali che possono fare da garanzia quindi questo vorrei questo chiedo e speriamo che questo invito venga accolto a proposito di qualcuno che compri il Parma buongiorno capitano buongiorno Tavecchio aveva parlato di un fondo canadese ci puoi dire qualcosa a proposito voi ci credete davvero questo fondo canadese perché si è paventata anche la possibilità che si arrivi a meno tre giornate dal termine e poi Tavecchio sparisca voi come la pensate? ma io parto dal presupposto che Tavecchio non deve trovare un compratore per il Parma quindi non vedo perché dovrebbe dire una cosa che non è vera lui ci ha parlato di questo fondo ci ha fatto anche il nome ci ha detto che a breve contatteranno i curatori e quindi bisogna solo aspettare e vedere cosa succederà poi da lì a dire che questo fondo comprerà il Parma ce ne passa però io credo che Tavecchio si è messo a disposizione per cercare un acquirente per fare da tramite ma non deve essere secondo me di certo lui quello che deve far acquistare il Parma da qualcuno quindi sotto questo aspetto non capirei il fatto di prenderci in giro ciao ciao questa vittoria raccolta ieri nel consiglio ha unito io credo che lo spogliatoio è sempre rimasto unito ma nello spogliatoio anche stamattina quando vi siete recati per l'allenamento immagino che ne avrete parlato quali sono le sensazioni perché abbiamo visto il tuo tweet quello di Massimo Gobbi immagino che sia una felicità per tutti sì sì ripeto grande orgoglio perché l'abbiamo voluta questa questa diciamo decisione queste modifiche le abbiamo volute e ci abbiamo lavorato ci abbiamo lavorato sopra sotto traccia su questo anche occupando giorni liberi facendo riunioni andando a Roma quindi era una cosa che ci sentivamo che siamo contenti di essere riusciti a conquistarla quindi nello spogliatoio c'è un po' non dico che si faccia le capriole però sicuramente quantomeno siamo contenti di essere riusciti a conquistare intanto questo che era uno dei nostri obiettivi volevo chiedere se le trattative chiamiamole così con i curatori sono per la riduzione degli stipendi quindi del debito sportivo sono già iniziate sono in corso se c'è un'animità da parte dello spogliatoio su questo argomento no ancora non c'è stata fatta nessuna proposta credo che stiano definendo proprio gli ultimi dettagli per fare un quadro completo di quelle che sono i debiti insomma i costi la scuola ha già dato disponibilità di questo quando prima dicevo di rendere appetibile la società la scuola a sua parte la fa rinunciando poi vedremo in che percentuale ce ne sarà bisogno dei propri monumenti quindi già questo è un segnale che c'è la disponibilità a voler salvare il Parma questo è il nostro grande altro obiettivo che ci siamo prefissi e cercheremo fino all'ultimo di riuscirci con tutte quelle che sono le nostre possibilità perché salvare il Parma vuol dire di conseguenza salvare quasi un centinaio di posti di lavoro vuol dire dare la possibilità alla propria città di avere una squadra in serie B con tutto quello che dietro comporta e ripartire ripartire puliti con una nuova società in una nuova avventura come? ma sì io ormai o finisco nel Parma o smetto non è che ho altre alternative quindi l'ho già detto piena disponibilità sotto qualsiasi aspetto e forma nel senso a rendermi disponibile per questa società e Tavecchio aveva detto anche mai più un caso Parma riflettendo su quanto è stato approvato ieri mi sembrano più delle norme per evitare dei nuovi immanenti diciamo così che non dei nuovi Ghirardi io vorrei ricordare che Ghirardi è stato presidente del Parma per 6 o 7 anni e poi è successa questa questa catastrofe cioè il buco di 200 rotti milioni additabile diciamo così alla gestione precedente non mi sembra di avere colto proprio dei segnali per dire mai più un caso Parma tenendo presente quella che è la situazione di alcuni club che sono anche messi approvata che avrà la sua diciamo tra virgolette consacrazione col fair play del finanziario al 2018 però già dalla prossima stagione tu dovrai garantire una copertura dell'esercizio a 12 mesi quindi quello che è successo a noi dall'anno prossimo non può più succedere questo comporterà nei prossimi anni nel nostro sbaglio 2016-17 il blocco del mercato per chi non avrà questi requisiti e per il 2018 con l'entrata in vigore il fair play finanziario una società non si potrà iscrivere quindi è stato fatto un passo avanti anche in questo normale che non lo potevi mettere subito da giugno perché se no veniva a mancare il campionato perché non si iscriveva nessuna squadra però è stato dato il tempo come ripeto in vista del 2018 alcuni accorgimenti per far sì che le società comincino a mettersi a posto quindi credo che un Ghirardi che quest'anno un altro anno prende una società di calcio non potrà fare quello che ha fatto nell'ultimo nell'ultime due anni e tu tante volte hai sottolineato come la vostra fosse proprio anche una battaglia legale tant'è che ieri ho definito Lodo Lucarelli quello che è stato approvato diciamo così però c'era anche da considerare l'aspetto economico nel senso che basteranno questi famosi 5 milioni messi a disposizione dalla Lega Calcio per superare la soglia del 15 aprile dell'esercizio provvisorio perché altrimenti si rischia di aver vinto soltanto una battaglia ma non la guerra infatti noi abbiamo bisogno e questo quando chiamo anche chiedo l'aiuto delle imprenditori locali abbiamo bisogno anche di come si dice di integrare questo bottino non so con delle sponsorizzazioni questo nel mio campo però far sentire abbinare al nome di Parma degli imprenditori di Parma per riuscire a dare la possibilità ai curatori di portare alla fine questo esercizio provvisorio perché se no come dici arriviamo al 15 non ci sono i soldi in casa abbiamo fatto un branco di casino per niente quindi mi auguro io che ci sia l'interesse e la voglia di tutti di tenere vivo il Parma e di portarlo a un'eventuale poi salvezza con un nuovo compratore quantomeno però alla fine del campionato per far sì che ci siano le condizioni per poterlo vendere anche se magari a voi si può imputare di essere riusciti a ottenere soltanto 5 milioni che ne so non 10 o 20 nel senso che se magari tenevate un po' più duro parlo nel periodo della protesta proprio più dura più accesa noi avevamo sempre detto all'inizio la nostra non era una protesta sotto aspetto economico quindi non abbiamo neanche voluto forzare la mano sul discorso economico perché le nostre idee e i nostri principi erano altri quindi non era quello che ci interessava è normale che se in questo momento c'è bisogno mi auguro che ci siano le persone preposte che ci diano una mano senti per tornare al famoso fondo l'altro giorno Gobbi diceva che sapeva chi era ma che non ce lo diceva immagino che anche tu non andrai molto lontano però tre quattro nomi o cinque o due o uno insomma qualcuno è venuto fuori non avete indovinato nemmeno uno di quelli che sono usciti grazie 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 tu in questi mesi non dico che hai fatto le prove generali da dirigente però quasi o al Parma o anche dell'asso cacciatori cioè per il tuo futuro inizi a vedere una non dico di fare dirigente magari al Parma il presidente ma magari non so anche un ruolo all'interno dell'associazione cacciatore quello che ho fatto non l'ho fatto per prepararmi un campo dopo assolutamente l'ho fatto perché voglio bene a questa città e ci tengo che le cose vadano bene quindi il mio obiettivo è solamente questo poi se sarò stato bravo o meno lo giudicherete voi sicuramente ci metto tanto cuore in quello che faccio e tanta passione mi prendo responsabilità che magari non dovrei neanche prendermi però ripeto lo faccio perché ci tengo a questa scuola perché la diciamo la mia coscienza mi dice di comportarmi così è sette anni che sono qua sono il capitano quindi farò di tutto per quelle che sono le mie possibilità insieme ai miei compagni a questo punto ci rimane solo di salvare il Parma quindi tutto quello che potrò farlo farò in funzione di trovare un acquirente per dare una continuità aziendale al Parma tra l'altro io ho anche offuscato la fama di tuo fratello per certi versi perché una volta insomma vuoi dire sindacalista e non solo era lui adesso invece ma lui piaceva farlo capito io l'ho fatto per cause di forza maggiore ecco quindi a parte la battuta ma sì ci sentiamo e sotto quell'aspetto sì insomma è contento e anche lui posso grazie grazie mille grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti